Beh, ma andiamo velocissimi verso un grande premio, che è quello come miglior voce femminile di un cartone animato. Esatto, però prima di chiamarlo chiamerei, come ho fatto prima con Valerio, un'altra promessa piccola del doppiaggio, che è figlia d'arte di una grandissima doppiattrice. Ma soprattutto la nostra giuria di qualità, perché il cartone animato li guarda e quindi ne sa. Esatto, quindi chiamerei sul palco Charlotte Infussi, figlia di Domedilla, d'amico! Vieni Charlotte! Cioè, vieni, andiamo a prenderla. Vieni, andiamo a prendere. Ah, no, no, vieni da sola! Massimo, andiamo a prenderla. Ehi, applausone, mi muscola! Allora, Zio Mirko, la giratura voce femminile. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, Anita Ferraro. Vado sempre la canzone del mare, certo, I Dallatini, Zootopolis. Elena Perino. Elena di Avalor. Maria Ledizia Sciccoli, Zootopolis. Giulia Tarquini, Regal Academy. And the winner is... Vince il treno, Ilaria Alatini. E' anche traduttrice! E' arrivata, eccoci qua. Vieni Charlotte, vieni. Guardate quanto è brava a portare il treno. Andiamo qua al centro, che ora ci raggiunge Ilaria Alatini. Eccola qui, un applauso a Ilaria Alatini! Anche tutti porti rinforzi, eh? Esatto. Combattiamo a darmi pari, così. Mi unisco al coro di tutti, quindi parlo di famiglia. Dalla poestesa, quella di cui hanno parlato tutti, che è questo mondo in cui noi viviamo, che lo capiamo noi, che lo viviamo tutti i giorni. Molti di noi cresciuti in questo ambiente e quindi viviamo questo sentimento di famiglia. Quindi parto in modo esteso per ringraziare anch'io questa grande famiglia, di cui il papà di tutti è Rodolfo, giusto? Brava, assicurati un po' di fortuna per i prossimi mesi, che abbiamo capito. Questo è il metodo, ecco. Vado, proseguo così, mi voglio formare un attimo alla sala, con cui abbiamo fatto, con tutti gli amici con cui abbiamo lavorato per fare questo film, quindi Massimiliano Manfredi, il direttore, Monica Simonetti, l'assistente, Christian Murgia, il fonico. Ogni suono che è uscito da questo film è stata una collaborazione di tutti, come poi è nelle nostre lavorazioni. Quindi il premio è in famiglia. Assolutamente. Mi stringo un altro pochino e ringrazio la mia meravigliosa famiglia, mio marito Diego, Riccardo, mio figlio grande, Emanuele e Safia. E mi stringo un po' di più e mando un bacio grande a Laura, che era in prima fila in tutti i film della Walt Disney, il pubblico numero uno di tutti i film della Walt Disney, che io amava tantissimo. Quindi grazie a tutti, grazie anche a Charlotte. Charlotte ti tocca darglielo, questo glielo devi dare, che cosa? Però puoi scegliere, potresti anche tenerlo tu. Esatto, ma arriverà perché... È una generosa, è una generosa. Allora ringraziamo ancora Maria Latini e la meravigliosa Charlotte con cui ci vediamo fra un po'. Sì? Eh sì, di qua, così ti danno la scatola. Allora ringraziamo ancora Maria Latina.